Dalla meraviglia del Teatro Galli di Rimini, che il Times nel 2019 ha giudicato uno dei 100 luoghi più belli al mondo, sono felice di annunciare la candidatura della nostra città a Capitale Italiana della Cultura per il 2026. Ci vuole certamente entusiasmo e coraggio per cogliere una sfida così importante, ma Rimini ha un cuore antico e lo sguardo sempre rivolto al futuro. Non ha solamente una lunga storia classica, medievale e rinascimentale, ma ha saputo reinventarsi e anticipare anche le tendenze da Capitale Balneare Internazionale, a sede di eventi prestigiosi, fino a diventare oggi una delle destinazioni più sognate, più frequentate, sempre uguale a se stessa ma sempre in grado di stupire e di far innamorare. Oggi cerchiamo tre figure professionali che scrivano insieme a noi il progetto per diventare capitale culturale. Vogliamo vincere e vi invitiamo a candidarvi per iniziare presto questo percorso insieme.